tuttavia il Messina si riscatta in casa nell'altro derby con il Cosenza risolve ancora Alberto Diodicibus in spaccata anticipando un difensore ma tutto l'interesse è rivolto già alla partita successiva quella all'ex militare di Catanzaro contro la squadra calabrese che vola verso la Serie B intanto ancora un colpo d'occhio del Celeste che malgrado la sconfitta di Reggio Calabria si presentava